tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante cosa che voi umani non fate vi insediate in una zona e vi moltiplicate vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce e l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca c'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento e sai quale il virus gli esseri umani sono un'infezione estesa un cancro per questo pianeta siete una piaga e noi siamo l'amore just like i thought right again right on again fucking sleazebag cocksucker oh big surprise here people right what a joke oh big farting right there oh guilty 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 fucking scumbags off get on again and it's off almost there it goes people right in your fucking face there it goes people right in your fucking face oh 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Zeolite, Zeoforce This stuff says it cages this stuff This stuff that's in these chemtrails that's in our bodies Ok, so now Chris is just going to pour in a little bit of that little tiny bit of the 91% alcohol Watch this stuff is alive Watch what happens Watch Look Look what it does Yeah You can tell when it goes Yeah That's totally freaky Is that freaking freaky? This is in every single one of us This is Spookier and weirder than I even want to go there Look at it Starting to figure it out Who's climbing out of people fish It was like trying to climb Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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